Musica Un cordiale saluto e buongiorno a tutti voi, cari telespettatori di FanoTV. Iniziamo di nuovo questa giornata insieme con la lettura dei giornali. Iniziamo una nuova settimana. Lo facciamo con la rassegna stampa, occhio ai giornali, che va in onda tutte le mattine in diretta alle 7.30, poi in replica, fino alle 13.30. Cominciamo dal santo del giorno, oggi è San Romualdo, Abate. Il sole è sorto alle 5.25, tramonterà alle 20.54 minuti. Il tempo per oggi, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, sarà buono, cielo sereno, in tutta la regione Marche, con temperature che andranno ad aumentare man mano che andremo avanti nella giornata. I venti saranno deboli nord-orientale. Il mare sarà mosso al mattino, con moto ondoso in successiva attenuazione. Domani ancora tempo buono e stabile per tutta la giornata, con temperature in ulteriore aumento. Allora, oggi è il giorno, un giorno importante per la provincia, per la regione. Insomma, c'è il Premier Gentiloni che arriva a Pesaro e a Pesaro ci rimarrà per diverse ore e con diversi appuntamenti. Di questo parlano i quotidiani questa mattina e soprattutto in questa fase preparatoria di due quartieri blindati. In Via La Marmora sono stati sigillati i tombini, i vigilantes operativi tutta la notte. A seguire l'inaugurazione della piscina di Via Togliatti, con Gentiloni, ci sarà anche Malagò, che è il numero uno del CONI. Giovanni Malagò è il presidente del CONI. Tutto questo avverrà intorno alle 12.45 a Villa San Martino, dove è in programma l'inaugurazione della piscina del Panathlon Moderno. È stata allestita nell'ex deposito Pantano a Pesaro questa tensostruttura per ospitare questo importante evento. Tutta la zona, dicevamo, è blindata con controlli da parte della Digos, quindi della Questura, che in queste ultime ore hanno intensificato i controlli. Abbiamo detto, ma questo avviene sempre. Sono stati sigillati anche i tombini per evitare che qualcuno inserisca dentro, per esempio, nottetempo degli esplosivi o quant'altro. Insomma, tutta la giornata descritta in questo articolo sul resto del Carlino, così come fa anche il Corriere Adriatico, che titola Arriva Gentiloni, due quartieri blindati, stesso titolo. Praticamente, in più c'è la spesa in aggiunta nel titolo del Corriere. Il Corriere dice, sottolinea, che sono stati spesi 48 mila euro solo per l'area di sosta. Il Premier oggi battezza la nuova scuola di via La Marmora e la piscina di via Togliatti. Raffiche, raffica di diviete di costi, costi anche extra. Per la nuova struttura di via San Martino sarà presente, come dicevamo, anche il numero uno del CONI. Si è spento Mancigotti, che è il fondatore della Rema. Aveva 87 anni. Dal negozio di materiale elettrico in via Milano, a Pesaro, costruì un colosso. I funerali si terranno nella chiesa dei Cappuccini, martedì prossimo alle ore 11. E poi il racconto di una disavventura di una signora pesarese che aveva, sfoggiava al polso un bellissimo Rolex Daytona, l'oggetto del desiderio di tanti banditi, che a Riccione, ieri, anzi sabato pomeriggio, poco prima delle 18, hanno addocchiato appunto al polso di questa signora pesarese, in moto si sono avvicinati ai giardini montanari, nel cuore della Perla Verde e insomma alla fine gliel'hanno strappato, gliel'hanno portato via. Falsi incidenti per incassare l'assicurazione, gli indennizi, nove imputati chiedono di patteggiare. È l'indagine da cui poi si è arrivati al dipinto di Leonardo. Alla fine figuravano sempre le stesse persone alternando i ruoli. Il meccanismo vedeva coinvolti legali, agenzie di infortunistica, medici e centri diagnostici. L'inchiesta ha potuto contare sulla collaborazione di quasi tutte le persone coinvolte in questa truffa. Poi nella pagina invece 6, la pagina 6 di Fano e Urbino, ci sono diverse notizie. Allora, intanto la più importante, che è più in evidenza, è quello di una toccante cerimonia alla presenza dei genitori del campione di ciclismo, Scarponi, per l'inaugurazione di un monumento, un monumento sulla cima del Petrano, un monumento per l'Aquila di Filottrano. Così veniva chiamato appunto Michele Scarponi, morto in un incidente, il campione di ciclismo, morto in un incidente stradale qualche mese fa. Un monumento per lui, toccante cerimonia, dicevamo, alla presenza dei genitori. E qui c'è la fotografia, la fotografia di questo gruppo di ciclisti, questo monumento dedicato a Michele Scarponi, a destra i genitori del campione, scomparso, li vedete qui, mentre posano di fianco alla targa dedicata al figlio. E poi, andiamo prima su questa, allora, violento frontale tra due auto, grave un 27enne di Calcinelli, uno schianto che è avvenuto intorno alle 16.30 all'incrocio con Via della Selva e Via Furlo a Calcinelli, e questa è la fotografia dell'incidente. E poi a Fano. A Fano è stato ricoverato il parroco di Sassonia, scrive il giornale, Don Marco Moschini, di 59 anni, sacerdote della parrocchia del quartiere di Sassonia a Fano, doveva celebrare messa come ogni domenica, è stato necessario però correre urgentemente in ospedale perché è trovato sanguinante. Questo è l'articolo del resto del Carlino. Poi in realtà sul Corriere Adriatico si scopre che questo parroco, di cui in questo articolo però non viene fatto il nome, il cognome, però chiaramente il riferimento è quello, il parroco, il titolo è parroco, tenta di tagliarsi le vene, ricoverato. Dopo essersi procurato le ferite ha chiesto aiuto ad un amico sacerdote. Andiamo avanti ancora dal resto del Carlino. Bebè di 18 mesi azzannato alla testa, paura a Pesaro, dove questo cane, girandosi verso il piccolo, con la bocca aperta e i denti sporgenti, ha stretto, seppur per poco, la testa del bambino, procurandogli tre buchi anche in una guancia. L'animale ha reagito aggressivamente perché disturbato mentre mangiava. è stato aggredito appunto questo bambino dal labrador di famiglia ed è successo nel quartiere Padiglione. Poi sciocca invece ai bagni gelsi, è caduto dal lettino questo signore mentre prendeva il sole e si è tranciato praticamente un dito di netto. Alcuni bagnanti hanno raccolto la falange e l'hanno messa poi in frigorifero. La titolare dei bagni gelsi dice ho chiamato anche l'assicurazione, mi ha detto che purtroppo non paga niente perché sarebbe stata una disattenzione. Rimane però il fatto, dice lei, che sono molto dispiaciuta. Io, dice lei, non ho voluto vedere niente né la mano né il dito che hanno messo in frigorifero perché dice mi faceva troppo senso. Poi invece, sempre sulla pagina del resto del Carlino, così si creano solo dei pericoli. Bettini contro le nuove piste ciclabili riduci carreggiata in via Milano e Monte Labattese sono state ristrette e il traffico in questo caso impazzisce. Con i cordoni, scusate, con i cordoli gli incidenti diventano micidiali. In centro invece si penalizzano le biciclette. A Pesaro invece sul Corriere Adriatico trova spazio in primo piano i lavori per 3 milioni di euro al porto ma serve un piano regolatore, manutenzione delle banchine del molo, nuova illuminazione e videosorveglianza anche per le serate estive, per le feste della Movida. Poi c'è il festival, il nuovo cinema del nuovo cinema in piazza, la piazza aperta per Rossellini, il primo ciacca della mostra, film, tavole rotonde e ospiti. Ecco il cartellone di questo appuntamento del nuovo cinema di Pesaro. Poi profughi in casa, profughi in casa con rimborso. L'opposizione adesso dice inizino ad ospitare i profughi il sindaco, cioè Matteo Ricci e gli assessori. Oggi in consiglio arriva la mozione firmata dal consigliere Perugini, presentata da Perugini e c'è un emendamento provocatorio dell'opposizione. Diceva ok, va bene, ci stiamo. Però il bando indichi che ad accogliere i residenti asilo siano anche gli assessori e i consiglieri di maggioranza vogliono che si iscriva in questo bando. E i 5 Stelle fissano anche un sostegno di 350 euro per chi ospita i senza tetto. A Fossombrone invece si discute in queste ore sulla voce che indicherebbe il sindaco di Fossombrone, Bonci, come colui che dovrebbe fare il sindaco full time. E pare che si sia, abbia preso, non licenziato per carità, perché non credo che si faccia una cosa del genere, però un'aspettativa e quindi voglia fare il sindaco a tempo pieno. Ora, il sindaco parla di interruzione temporanea, la minoranza chiede però di mostrare le carte. Il sindaco dovrebbe fare appunto il sindaco a tempo pieno, lascia dunque il lavoro e scoppia subito un caso politico. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle è da sempre contrario al professionismo elettivo. Quindi, come dire, la politica dovrebbe essere soltanto una cosa da fare bene, ma non come occupazione principale politica. Quindi non dovrebbe essere un lavoro, ma una vocazione. Ecco, sintetizziamola un po' così. A Urbino invece, infiamme la salita di Pantani, paura per un campeggio che poi è stato evacuato. L'incendio circoscritto in quattro ore da tre squadre dei Vigili del Fuoco, non si esclude la mano dolosa. Poi da Fano invece, Sassogna diventa un parco giochi e ci sono le icone di Guerre Stellari. Vedete i personaggi di Star Wars, in alto un gruppo di animatori. I centri estivi hanno dato prova delle attività, spazio a sport, laboratori didattici e creativi. Dalla Valle del Cesano invece, le macchine di Leonardo inaugurano nuovi spazi. Il complesso di Sant'Agostino più fruibile, la mostra celebra l'assedio di Mondolfo. Infine, tanta cronaca sulla pagina di Senigallia. Allora, intanto una giovane che è stata aggredita in discoteca e dei ragazzini in fuga con la collana. Mamma mia, due minorenni le strappano la catenina, sono stati presi poi dal servizio d'ordine del locale. A Misano invece, un incidente in motocicletta, cade nelle prove niente gara per Federico Sanchioni e sotto poi un'ubriaca che una donna al volante provoca un frontale. Lei non ha mai avuto la patente. Incidente in via Mattei, giro di vite dei carabinieri, contro l'Aincol alla guida. La rassegna stampa finisce qui. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Ci rivediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Occhio alla notizia. e per le vostre segnalazioni c'è, come avete visto, il nostro numero di cellulare. 338-4968-250. Arrivederci. musica su